ciao ragazzi e ragazze benvenuti su investing guide oggi un giorno naturalmente di riflessione ieri proprio perché ho voluto fare il video con un po di mente serena dopo aver assorbito il colpo colpo che è ovviamente un colpo un po per tutti perché sempre più situazioni anomale strane anche a volte con concetti complottistici potrebbero essere anche affermati avvengono in europa e non altrove come voi ben sapete fx c'è anche usa c'è fx europa eppure fx europa è sempre quello che se la prende in quel posto non sto parlando ovviamente di solo questa situazione perché nel 2022 ne abbiamo viste di cotte di crude come situazione con celsius situazione con terra luna tutto comunque di fatto una grossa perdita di capitali dei cittadini europei europa che ovviamente è a capofila per quanto riguarda le politiche legate al controllo alla regolamentazione e al forcing del controllo soprattutto sulle criptovalute che purtroppo non danno effetto ma vediamo subito il sito ftx che mostra naturalmente a prescindere naturalmente dal grafico che vi sto mostrando su una criptovaluta btt del gruppo diciamo di just in sano sia di tron perché qui c'è scritto proprio che fx e corre al momento non è in grado di processare i prelievi e non loro raccomandano fortemente diciamo di evitare i depositi depositi che oltretutto sono disabilitati per quanto concerne le criptovalute tron btt justin jst san e ht naturalmente questo significa che voi state osservando un grafico con dei prezzi completamente sballati perché btt se andate in un altro exchange ma benissimo possiamo vedere guardate 40 dopo la virgola andiamo direttamente su trading view e cerchiamo il prezzo di b torrent contro il dollaro tether e cerchiamo gare q coin primo che ci capita guardate quanti sono i 0 2 4 6 0 dopo la virgola questo cosa significa che se voi comprate su q coin potete fare praticamente un bel giochetto di arbitraggio andare su ftx depositare i vostri btt e guadagnare due 0 quindi capite da 1000 euro vi fate 100 mila anche di più quindi volevo dire ragazzi alla fine qui la situazione è che stanno cercando di fregare le persone dicono qui che è legato ai detentori di queste criptovalute per permettergli di fare lo scambio inviarle un wallet esterno ma in realtà ho fatto la prova io un tron l'ho comprato a 0 30 centesimi quindi vedete un po quanto l'ho pagato se noi andiamo a vedere tron usdt q coin un tron e 0,05 centesimi l'ho comprato e qui a 5 centesimi lo rivendete a 30 centesimi su ftx è ovvio che questo viene fatto per cercare di speculare e non aiutare i detentori di queste criptovalute su ftx perché naturalmente chi è intenzionato a prelevare magari perdendo qualcosa cerca il tutto per tutto per convertire in una di queste criptovalute e inviarle al proprio wallet esterno una ledger cosa che purtroppo vi assicuro non è avvenuta quindi il video vi confermo purtroppo che la situazione non è arrivato nulla neanche quel tron che però dice è inviato il processo dice no no è stato accettato ti arriva l'email ma l'unico problema è che non c'è nulla nel senso che non è arrivato perché è il solo richiesto essendo tutto centralizzato e non gestito dall'algoritmo gestito dalle persone le persone non sono abilitate a prelevarti e a concedere il prelievo quindi è solo fuffa quello che ve leggete qua fuffa stiamo parlando naturalmente di ftx che è praticamente bruciato capitali ingenti risorse in mani addirittura se volessimo andare nei sito della commissione europea addirittura in tutte le lingue possiamo guardarlo come vogliamo in tutti i sapori vedete qua la lente di certificazione ciprota sizex.gov cipro vedete che a livello certificativo proprio delinea la ftx europa limited che sarebbe la ex kdn financial service ltd il vecchio nome praticamente con il numero di licenza tutto certificato addirittura superato il mifid ossia la protezione praticamente anche da parte dei clienti tanto che potevamo addirittura leggere ftx europe ottiene il mifid 2 come licenza dal certificatore dell'exchange europeo c di cipro con base a cipro questa naturalmente è la sede nei paradisi fiscali ce l'hanno tutte come anche binance ftx ha la sede in bahamas nelle bahamas quindi nei caraili però per essere regolamentato e poter avere la giusta regolamentazione certificazione europea deve avere sede in europa e a tutti gli effetti un exchange così come fate voi a dire non apre il conto presso ftx vi assicuro vi chiedono anche determinati requisiti di conoscenza degli strumenti finanziari sin dall'inizio in fase proprio di registrazione quindi uno di questi di solito si cerca sempre di andare verso i più grandi quelli che hanno più soldi più liquidità per avere la possibilità giustamente di operare in massima e maggiore sicurezza quindi avere visto quello che è accaduto io vi dico soltanto quello che penso perché giustamente non possiamo o più avere certezza di nulla quindi a maggior ragione non sono consigli finanziari ma oltretutto oggi come oggi non abbiamo alcuna certezza di nulla tranne quella di andare a mettere le proprie criptovalute in una leggera ossia in un wallet esterno che non sia altro che gestito da voi punto quella è l'unica certezza che vi possono dire se le chiavi non le perdete non ve le rubano i vostri bitcoin le vostre criptovalute sono detenute presso la legge ma fin quando si tratta di un exchange o di qualunque grandezza essa sia di certezza non ce ne sono perché voi non avete la proprietà delle vostre chiavi non potete gestire i fondi e dipende da una segretaria da un dipendente o qualcuno che clicca il bottone e vi permette di inviare o ricevere i vostri fondi in un'altra in un altro indirizzo proprio come una banca quindi ma il fatto stesso che sta accadendo tutto in europa e non ftx negli stati uniti mi pone il dubbio almeno complottistico ditemelo quello che volete ma io sto cominciando a pensare che tutto quello che sta accadendo in europa serve soltanto per prosciugare liquidità dai fondi dalle riserve dei propri retail dei mercati dei cittadini e non praticamente da altre parti quindi tutto quello che sta avvenendo se ci fate caso avviene in europa e comunque i grandi fondi persi con terra luna erano una grande fetta anche in europa lo stesso dicasi per celsius lo stesso dicasi per altro perché se volessimo andare ad approfondire su per esempio twitter che naturalmente mette le basi sul concetto stesso di informazione che ci può offre molte informazioni notiamo subito su ftx ulteriore questo tipo di informazione dove si comunica a chiare lettere ingrandisco naturalmente solo per mostrarvi quello che dice che in pratica non c'è liquidità per poter prelevare stiamo parlando di block fee ossia block folio block fee wallet è interessata praticamente come account dove depositavate i vostri fondi per ricevere un interesse di un certo livello anche alcune persone che conoscono hanno fatto purtroppo il i guadagni non si sono più visti i soldi non sono più arrivati e lo scrivono apertamente che non c'è liquidità alcuna per poter gestire i prelievi quindi non solo le ftx exchange che gestiva il trading quindi le bot i trading le compravendite e tutte le gestioni che sono le operazioni basi lani per coloro che iniziano ad entrare nel mondo delle criptovalute ma anche quello delle rendite del 9 10 20 per cento quello che ti danno fisso senza dover tribulare avete visto che dalla padella la braccia inoltre vedete qui comunque sia ci sono varie indicazioni di altre persone che pubblicano info un exchange di criptovalute che dal mattina alla sera brucia più di 25 miliardi di dollari e si chiamava bank fried cioè sam bank man fried significa il signor sam banchiere fritto cioè qui fa un riferimento a come mai c'è ci sia una persona che si chiama in questo modo ecco e che guarda caso diventa il direttore il ceo di una società già solo il fatto di essere un banchiere fritto non dovrebbe in alcun modo presenziare un'azienda di questo tipo ma bando alle cianci cioè giustamente si sta parlando solo di scherzo relativamente al nome anche se è sempre più sembra strano comunque il crack di ftx si sfonda anche sui giornali del sole 24 ore quelli italiani dove il ceo l'uomo il banchiere fritto chiede scusa ma non c'è liquidità per fare i prelievi quindi è inutile leggere sul sito che ti permette il prelievo il prelievo non viene effettuato oltretutto viene bloccato i fondi di ftx direttamente preso le bamas da parte del regolatore nazionale delle bamas quindi nuova ondata di pupù in arrivo nel senso che verranno bloccati e non c'è più nulla da fare fin quando non termineranno le indagini del regolatore e si andrà per processo e quindi condizione di codice penale delle bamas quindi tutto quello che c'è da dire è sicuramente pesante brutto perché comunque non volevo tediarvi con ulteriori informazioni e poi ftx vediamo ulteriori info il ceo di kucoin ha negato rapporti su twitter che dicevano che kucoin aveva enorme esposizioni presso ftx ha detto che kucoin non ha alcuna esposizione ftx non ha mai depositato fondi su ftx attualmente il team sta lavorando alle sue riserve proof tree merkle tree praticamente vi spiego che cosa si tratta quindi introduco un nuovo concetto di sicurezza quindi quali sono i prossimi passi per coloro che hanno intenzione o meno di diversificare rispetto all'euro digitale che avverrà tra giugno e settembre prossimo anno e qui saremo vincolati anche a comprare certi tipi di prodotti e non in base ai vostri redditi in base alle vostre condizioni sociali e questo è il concetto delle criptovalute il concetto di diversificare sperare di avere qualche alternativa rispetto a quella che vi obbligano nell'utilizzo di una certa valuta digitale in questo articolo pubblicato da hot trading dove si dice praticamente che alcuni exchange stanno cercando di dimostrare a prescindere dalla regolamentazione della politica che abbiamo capito che pacqua da tutte le parti perché non regolamenta nulla alla fine cioè le leggi non regolano né aiutano i cittadini in alcun modo allora gli exchange per dimostrare di essere solvibili praticamente stanno cercando di vi dico i nomi binance wobi ok ex kucoin hanno rivelato l'intenzione di pubblicare il loro fondi le loro riserve per diciamo arrestare il contagio di questa situazione che politicamente dicono è meglio far così perché i cittadini potrebbero dire sono tutte uguali e non compro più niente mi allontano dal mondo delle criptovalute in realtà le crypto exchange ci sarebbe anche da aggiungere kraken che da tempo però kraken è un exchange mi sembra americano quindi la sede è lì in america quindi può essere che debba sottostare comunque a delle regolamentazioni molto più forti e di un mercato finanziario molto più evoluto rispetto a quello europeo che sappiamo essere ovviamente all'asilo rispetto all'america però di fatto questi exchange quindi ribadisco kraken non lo fa perché già l'ha sempre fatto ha sempre avuto la prova di verifica dei propri fondi proof of fond invece binance wobi ok ex kucoin e altri faranno praticamente questo di tutto per cercare di dimostrare di avere diritto ad accogliere praticamente i propri clienti in tutta sicurezza cioè di dimostrare che i propri fondi vengono gestiti e sono a copertura di quello che avete stiamo andando verso proprio una sorta di gold standard nel senso voi depositate mille euro ma avete la quantità di bitcoin da potermi dare o è solo fuffa è solo un numerino che mi dice che io ho comprato 10 centesimi di bitcoin o 0,5 centesimi bitcoin li avete o no quella quantità in corrispondenza quel dato istante di valuta fiat che viene convertita in criptovaluta sì o no naturalmente la prova di verifica deve subire naturalmente un certo processo ovviamente possiamo anche andare a tradurre la pagina sempre con google translator di volta in volta per cercare di avere un aiuto per chi non conosce l'inglese potete andare a leggere non certo i tweet ma che sono delle immagini ma tutto quello che c'è scritto naturalmente parlano diversi diversi vi leggo solo questo ma cerchiamo di essere veloci diversi importanti exchange di criptovaluta non ho detto adotto un po male ma ho lo traduco io bene binance, wobi, okx, kucoin eccetera hanno rivelato l'intenzione di pubblicare le proprie riserve di fondi per arrestare gli attuali timori di contagio che stanno attanagliando il mercato delle criptovalute champagne zao sia il ceo di binance conosciuto anche meglio come cz ha consigliato che gli scambi di criptovaluta dovrebbero eseguire una sorta di proof of reserve merkel 3 secondo lui praticamente una sorta di prova di verifica della riserva dei propri dei propri capitali mentre le istituzioni finanziarie tradizionali come le banche possono funzionare con delle riserve frazionarie gli scambi di criptovalute quindi gli exchange non dovrebbero perché stanno vendendo prodotto spot quindi un sottostante numerico finito e non frazionario come diciamo la truffa delle banche ma in realtà qui stiamo andando adesso qualcosa di più pericoloso quindi cz ha aggiunto che binance inizierà la prova di verifica del proof of reserve nelle sue offerte per la piena trasparenza il 9 di novembre ha quindi inoltre rivelato che lo scambio avrà doveva superato il suo fondo assicurativo safo di un miliardo di dollari e binance quindi ha istituito un fondo aggiuntivo nel luglio 2018 per proteggere i fondi stessi degli utenti cz non ha rivelato quando lo scambio pubblicherà le sue prove di riserva di questo albero di questa genealogia della provenienza dei fondi e quanti soldi sono depositati all'interno e dove quindi il ceo di gate.io lin han ha dichiarato che l'exchange è stato il primo a fornire una prova del 100 per cento delle riserve con la verifica del merkel tree sarebbe un arvelo di genealogia delle prove di verifica delle proprie riserva e qui lo sta dichiarando in questo tweet e han continuando dice che l'azienda di criptovalute avrebbe rivelato la sua soluzione open source al settore per promuovere la trasparenza e accelerare quindi un sano sviluppo del settore che in questo momento ha un crollo anche dal punto di vista di immagine e quindi ha effettuato due audit di proof di riserva quindi verifica della riserva condotti da armanino llp il risultato più recente è stato pubblicato il 28 di ottobre justin sun titolare di tron ha rivelato tre wallet che secondo lui contengono 48.555 bitcoin circa 85 milioni di dollari ovvero meno del 3 per cento degli asset di wabi global e polonix polonix è un'altra exchange che ha intenzione di provare la propria solidità con le prove di riserva ecco e quindi gli altri asset degli scambi includono il dollaro americano le stable coin e i buoni del tesoro quindi c'è anche di mezzo buoni del tesoro quindi valori un po obbligazionale il ceo di q coin e ok ex quindi johnny liu e j au hanno rivelato che i loro scambi pubblicheranno le loro prove di riserva entro i prossimi 30 giorni e quindi ragazzi ci siamo stiamo andando verso un'auto regolamentazione da parte degli exchange però più piccoli ragazzi stiamo parlando di quelli più piccoli tranne binance che è quello più grande però di fatto in europa ftx era quello più certificato più sicuro più blasonato e chissà come hanno avuto queste certificazioni chi gli avrà date comunque sono sicuramente enti istituzionali di cui non possiamo fidarci in alcun modo e questo è quello che risulta che in europa di quello che vi viene detto non dovete fidarvi ma neanche dell'un per cento di quello che vi viene detto assolutamente quello che viene detto è tutto fuffa soprattutto per quanto riguarda il mercato finanziario e tutto quello che riguarda i soldi tutto quello che viene detto fate l'opposto perché purtroppo ad almeno ad oggi il riscontro è questo e i dati sono questi non c'è altro ombra da dire e ho altro da dire scusate quindi ragazzi non voglio per il momento parlare di trending di analisi di valori di di bitcoin sapete che il prodotto tutto quanto è sceso erano nell'aria c'è stato comunque un chiamiamolo cignorero ma comunque si tratta di qualcosa che ha scatenato e implementato ha aumentato accelerato la propensione al trend che era sempre quello verso il basso si andrà sicuramente ancora verso il basso ne vedremo delle belle vi ringrazio sempre per il vostro ascolto se non avete fatto registratevi al canale attivate la campanellina per ricevere l'aggiornamento dei video progressivamente ciao grazie e alla prossima